33 bambini ricoverati nell'ospedale dell'US3 Serenissima dall'inizio della pandemia. Per lo più ricoveri preventivi, ma non sono mancati 6 casi di patologia grave, con due piccoli che hanno sviluppato un'infiammazione multisistemica e sono stati trasferiti a Padova. Il Covid nei bimbi ha un impatto lieve, ma le positività vanno indagate anche in presenza di sintomi leggeri. Soprattutto perché frequentano la comunità infantile, sono all'interno di una famiglia dove ci possono essere persone fragili e quindi è necessario riconoscere il prima possibile proprio per chiudere il cerchio attorno all'eventuale positività. I ricoveri sono stati sempre molto brevi, ma sono stati importanti per rassicurare la famiglia, capire come il bambino evolveva dall'esordio e soprattutto ci hanno permesso di segnalare il bambino come possibile spia di un'infezione familiare o ambientale e questo è stato un ruolo veramente importante nei bambini. In tutta questa fascia però di popolazione che ha pochi sintomi, ma che può essere una spia importante di infezione, si sono poi caratterizzate alcune complicanze che sono quelle già note, in cui i bambini hanno presentato dopo il Covid sintomi importanti di una malattia infiammatoria multisistemica che hanno richiesto di trasferirli a Pave in un centro di riferimento regionale proprio perché è una patologia relativamente nuova, rara ed era importante riuscire a capire di che cosa si trattava e quanto correlata era il Covid, ma soprattutto anche permettere di evitare il possibile aggravamento proprio perché purtroppo solo raramente, ma alcuni bambini hanno avuto veramente un andamento critico che ha richiesto anche il ricovero in terapia intensiva neonatale, soprattutto per complicanze di tipo cardiaco. Il Covid ha un impatto molto forte sulla psiche dei bambini. È in questo ambito che sono necessari la vigilanza e il ripristino della socialità. Questa mancanza di socialità, la mancanza della scuola, la mancanza delle reti, proprio di un'abitudine giornaliera, di avere un impegno degli orari, ha portato veramente un effetto devastante. Noi abbiamo avuto veramente un aumento dei ricoveri di ragazzi che hanno mostrato l'incapacità di gestire una giornata vuota davanti, utilizzando solo cellulari o tablet, ma con delle grandi manifestazioni di tristezza, di apatia, di preoccupazione, di pensieri negativi che in molti casi hanno purtroppo anche portato a gesti eccessivi, come tentativi di autolesionismo o di suicidio. Questo è stato veramente per noi l'emergenza Covid, più che il trattare la patologia respiratoria. E credo che vada considerata sul piatto della bilancia, ed è quello che devo dire su cui io parlo di più con i genitori che magari hanno qualche dubbio, perché credo che questo vada considerato davvero come una possibile patologia dei nostri ragazzi, se questa fase di isolamento e di mancanza di socialità e di scuola continua. Grazie.